e bella a tutti ragazzi sono il Gilberto e sono qui oggi a portarvi il video in cui vi mostro tutte le location come state vedendo esattamente in questo momento dove potete trovare tutti i poster di Omega e Carburo, mi sembra siano 7 se non ricordo male, comunque questa qua è la prima l'ho appena fatta vedere sulla mappa, un'altra è questa qua e si trova vicino a Shifty Shaft comunque ve le sto facendo tutte vedere qua nella mappa in cui potete trovarle vi conviene fare lo screen se volete, se no fate, ho aprito ogni volta il video, vi faccio più viso comunque vi conviene fare gli screen, un'altra è qua vicino a Pinnacoli, pendenti ricordo raga condividete il video ai vostri amici perché devo, voglio raggiungere 4.000 iscritti visto che sono 3.500 quindi noi raga fatemi questo favore, io vi porto questo video in cui vi mostro queste location qua ricambiamo il favore, questo qua invece è su questa montagnola un po' ambigua comunque lo troverete tutte qua nella mappa questo qua invece è la casa vicino a Pleasant Park e troverete questo poster molto carino di Omega vi ricordo anche che in contemporanea è uscita la sfida ovvero cerca tra un parco giochi, un accampamento e un campamento e un'impronta ragazzoli questa qua è la penultima se non erro è ovvero vicino a magazzino a Muffito, poi c'è ancora una qua vicino a Tomato Town troverete lì il puntino che indica il punto esatto sulla mappa quindi non potete sbagliarvi assolutamente nel dubbio, come vi ho detto fate lo screen nulla, nessun problema non è che mi lamenti, non mi importa tanto il televisivo comunque questo qua raga era l'ultimo nulla raga, cerchiamo di arrivare a 50 likes e ci becchiamo al prossimo video ciao 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 ciao